Allora, The Lost, andiamo, no, dai vieni qua, vai a sinistra, ma vaffanculo, mi ha proprio, mi ha proprio scopato il cu- Eeeh, risolviamo questo, proviamoci, ti prego un po' di danno Ragazzi, ma mi ha abbassato il danno, non so veramente come la faremo sta run, vi dico io, non la faremo sta run Quello è il problema Manco la musica, manco la musica, porca di quella puttana Mi è passata veramente la voglia, non sto riuscendo a fare una run che sia decente oggi Eh sì, dai, va bene, vediamo che c'è in sta treasure room almeno Chi è ancora? Dai, muori Ma che cazzo, eh sì, vaffanculo va, tutti oggetti di merda poi mi sta dando Cioè non c'è capitato neanche un item Q4 in tutte queste run BFF non mi serve, dai, altro rollino, ti prego, va bene, è un ottimo tiers up questo per iniziare Abbiamo un range un po' basso, però va bene Dove siete? Vai, boss Mi serve un po' di range adesso Isaac però, eh Fai il bravo, mi dai sempre il range, sempre Dammelo stavolta Ok Ovviamente, ovviamente, ovviamente Allora, vediamo se c'è la treasure room, la secret room qua Ok, cosa c'è? Dio, Dio benedica ogni tanto l'RNG dopo 16.000 run di merda Vai Però vorrei una batteria adesso Vorrei una batteria che non ho Va bene Eh ragazzi, prendiamoci la cup Dai, andiamo Eh ragazzi, aspettate, non è vinta, eh Dobbiamo stare sempre comunque attenti con The Lost Vai Speriamo nella prima, nella prima treasure room Che sia subito buona Eh, ma che palle un'altra volta sta stanza Infatti è che abbiamo un range veramente inutile Devo ammazzare le moschine queste qua subito Sono le più pericolose Ok, eh, buon inizio Riesciamo a prenderci dei soldini? No, non ce la facciamo Però, vediamo se torniamo dopo Siamo super attenti Vai, subito boss No, però voglio andare, prima voglio andare nella treasure room Eh, qua ci potrebbe essere la secret room però No, va bene Ok, vai Mamma mia Che imbarazzo tutto Vai Porca puttana Porca puttana Erano tutti oggetti di merda però Avrei potuto prendere almeno un familiar Non ci ho pensato Vai, ok Uno, due e tre Buono Buono Range up Oh, buonissimo Prince of the End Va bene Lemon party E speed up Va bene Ragazzi Andiamo dal boss e preghiamo Ok Dai, fatto Cosa Aspetta, prendiamo Prendiamo Eh no Mi sa che come ne prende Beh, in realtà Il Il tears up già è ottimo Prenderei quasi quasi Il range Sì, vai Prendiamo il range Ottimo Ti prego Cos'è? Aspetta, aspetta Aspetta che c'è mamma Allora Cosa prendiamo qua? Allora Non c'è niente di particolarmente Interessante In realtà La satanic bible Ma io voglio tenermi L'Eternal D6 E non me ne faccio niente Io Io Rerollerei ragazzi Vai Damocle Uh Uh Damocle No Prendilo però Leonardo No Perché ha preso il Judas Shadow Io stasera sto gioco Lo spacco in due Non fa niente Non fa niente Non fa niente Dai Vuoi morire per l'amor di Cristo Damocle Raddoppia tutti gli item Che puoi prendere Cioè Se in una treasure room Ci sono due Item Cioè Te ne da quattro E puoi prenderne due Di quattro Tra l'altro Ragazzi Continuiamo a non avere danno Ti prego Oddio mio Vai Oh Va bene Rabber semento Non è male Vediamo che c'è qua Ehm No Vediamo se riusciamo a realizzare qualcosa qua dentro Ehm Ok Restock Prendiamolo Vediamo se qua c'è qualcosina Magari Niente Va bene Andiamo dal boss Dai Mori Ok Ehm Prendiamo l'altro tears up Buono Ehm Portiamoci Chiaramente Perfection E andiamo Let's go Vai Ehm Rischiamocela qua ragazzi Ok Niente di che Esplodiamo questa Un item magari Assolutamente Figurati Io non voglio perdere una run con glitched crown Veramente mi rifiuto Anche se quel damo Quelle quanto Mi sta facendo rosicata E non l'ho preso eh Vai Ti prego Ragazzi Ma che imbarazzo Tutto Ehm Va bene Proviamo con purity Ok E dopo questo Cosa mi da? Speed Certamente Cosa poteva darmi Se non speed La cosa più inutile Speed Purity Veramente Oggi si sta veramente impegnando Isaac ragazzi eh Ve lo giuro Vediamo che c'è nello shop va C'è lo stronzo Certo Sia mai Ci sto nella run Nella run buona Dammi almeno lo steam sale Ok Io sto sempre sul filo del rasoio in sta run È incredibile Ehm C'è una Prendiamo il danno Però vorrei anche una carta che mi da un po' di Un telepils Lockdown Va Fanculo va Allora andiamo dal boss prima Vabbè abbiamo una vita in più Giochiamocela Buono E stai lontano da me No 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 Madonna quanto mi ha sfiorato le membra Eh sì dai Non lo finiremo mai questo boss ragazzi Dai mori ti prego mori 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 Raga Preghiamo Questo boss può essere molto bastardo Guarda che mi incastra eh Dai mori subito ti prego Ok Altro danno Prendiamolo Ok Almeno 6.45 di danno Eh non abbiamo nient'altro da fare qui Quindi let's go Andiamo Vai Almeno stavolta Vai Ehm Non ci siamo Dai ti prego Ti prego Eh ma che cazzo Dai Veramente Io ti odio Io statera Isaac lo sto veramente odiando Con tutto me stesso Figurati manco l'item Mi ha dato Va bene Madonna stavo per aprire questa cesta ragazzi Avrei veramente urlato Oh un reroll Un reroll decente Ti scongiuro Ti scongiuro Oh Cosa prendo Allora perché pyromaniac È pyromaniac ovviamente Però forse sinus infection Dai sì sinus infection È un oggetto un po' più offensivo Guarda che ora muoio di esplosione però io eh No no Sai sinus infection molto meglio in questa occasione Sono carico La possiamo fare a vincere una run stasera Ok Oh triple shot Vai prendiamolo Buono Qua invece cosa c'è? Va bene pick up Ehm Vai ti prego Niente Andiamo Non voglio neanche rischiare Di premere i bottoni Va bene Andiamo dal boss Siamo a Dunk depths 1 Andiamo Che brutta stanza questa eh Guarda che mi serviva veramente pyromaniac Via 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 Stai lontano da me Ok Fatto Crampone Mori subito Crampus No 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 Sì no Ok Ehm Ehm Rerollino magari Vai Prendiamoci Ehm Un altro tears up Andiamo E let's go Ok Altro danno Prendiamolo Addirittura double trouble No via Io lo so Che morirò per una bomba in questa run E mi pentirò di non aver preso pyromaniac Guardate come va a finire male eh Dai Un è andato No 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 Non tu Non tu Non tu Ti prego Ti prego Non saltare Grazie Che fatica Vai stiamo qua Me ne frega proprio un cazzo Hai pulito la stanza? Hai pulito la stanza? No Stanza pisciata Niente Dai un item Vaffanculo Perks Non mi serve Andiamo Là c'è una golden pill L'ho vista ma non voglio rischiare Dai Almeno Almeno questa treasure room Ehm Va bene Mysterious liquid Non è proprio il massimo Vaffanculo Dai Tears down Ottimo Eh Oh Aspetta no Mystery gift Buono Cerchiamoci subito La La secret room Ok qua non c'è Qua non può essere Allora dove sta sta stronzamo Da qui Bene Vai Ah cazzo lo spin down dice Aspetta però spin down dice è ottimo Che dico Spin down dice è ottimo C'è una cosa Guarda eh C'è anche Cazzo c'è anche Il Lo school bag Che facciamo Ci prendiamo lo school bag O E ci portiamo anche l'Eternal D6 E Oppure Ci giochiamo Un re-roll Con l'Eternal D6 Là dentro Perché potrebbe non essere una cattiva idea Allora Facciamo così Prendiamocelo Perfetto Oh Possiamo fare questa cosa Possiamo fare questa cosa Ottimo Meno male Aspetta eh No Stavo sbagliando Ma che palle Un'altra volta Sono stupido Perché non ci riesco Vai Ok Ok Questo non è niente di che Purtroppo Vediamo se riusciamo a trovare un pound of flash Magari No Non c'è il pound of flash Vediamo se Magari con un re-rollino Prendiamoci lo spin down dice Ovviamente Ah ma questo è lo spin up dice Non lo spin down dice Ho sbagliato Non dovevo Io voglio lo spin down dice Non lo spin up dice Vediamo se riusciamo a fare un re-rollino Allora Bombe infinite Grazie Eh Ragazzi È un rischio enorme Però voglio farlo Vai Flip Peccato 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 Allora Andiamo Facciamo una cosa Vediamo se ci da una batteria Magari Via E dammi una batteria Ma c'era un bag Delle batterie in giro No eh Di hanged man Oh guarda che figlio di puttana Manca una batteria Mi ha dato Allora Niente Mandarcene purtroppo Andiamo Andiamo Più che altro Volevo una batteria Per satana Mamma mia Quanto ero vicino al muro Ok Grazie mille per il patto Andiamo su Cos'è Di livello 4 Ah il void Beh ma non mi serve il void Prendiamo le falci ragazzi Oppure potremmo prendere duality Vai duality Atem si è molto forte Hai ragione Però Va bene così Va bene così ragazzi Cerchiamo la super secret room Ok Cosa c'è Oh Vai Pagami Dammi un oggetto Dammi un oggetto Bastardo Dai Dai Dammi un oggetto Stronzo di merda Guarda che infame Dammi un oggetto Muoviti Ok Tutti brutti però Cosa prendiamo Non ci sono batterie purtroppo in giro Allora Eh la La key Allora io più che la key Pensavo al fungo Perché il fungo Ci dà un grosso Tears up Veramente grosso E con il danno Visto che abbiamo tre lacrime Vai fungo È rimasto lo stesso È rimasto lo stesso E c'è anche a basso del danno Va bene Andiamocene Non ho parole per questa cosa Non pensavo fossimo già al cap Vabbè almeno Abbiamo il triple shot Quindi va comunque bene Figura di No 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 T'ho rischiato Usciamo C'è un altro judgment Però ragazzi Fermi Cerchiamoci la secret room Sarà qui Attenzione Allora Qua secret no Dai dammi la super secret almeno Benissimo Ok Judgment Ma vaffanculo va Pezzo di merda Giusto il beggar dei cuori Mamma mia che pelo Perché gioco così aggressivo poi Non c'è bisogno Leonardo Ok Roll Io ora non posso sbagliare Non posso Grazie Gesù Allora Io adesso però non so cosa prendere Nel senso Se volessi fare La cazzata Prenderei Sacred Heart Se volessi fare la cazzata Se non volessi fare la cazzata Prenderei Sacred Orb Meno male Meno male Finalmente Andiamo Adesso anche se perdiamo una vita Siamo tranquilli Vorrei non perdere una vita Se possibile Certo però Vediamo Vai temmino Assolutamente no Ma vaffanculo va Ma proprio tu Mamma mia Se è pericolosa Questa cosa No 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 Ok Ti prego patto Eh va bene Niente patto purtroppo Prendiamo Danno Vai Devo mandare full danno Purtroppo ragazzi Adesso Purtroppo Per fortuna Eh no purtroppo Niente caciocavallo Allora io mi riprenderei Perfection però Eh sì Tocca riprendere Perfection Questo cos'è? The sun Eh portiamocela Portiamocela Può servirci In emergenza Dai dammi item Glattoni Cagami l'item Ti prego Figurati Quando mi serve Non me lo dai mai Quando poi invece Non mi serve Magari non c'ho neanche il volo Lì Facciamo proprio Tabula rasa No che stanza pericolosa Questa Mamma mia Pericolo Questa cosa tutta Ragazzi Stiamo messi veramente male Con il danno comunque Vai Prendiamone ancora Ti prego Mori subito anche tu Andiamo a vedere Se là c'è qualcosa Ma che Queste stanze Ok Spoon Bender Mi sa che lo prendiamo Ragazzi Spoon Bender Mi sa che lo prendiamo E tu potresti pagarmi In qualche modo Magari A parte ricaricarmi Dico No ma tu difficilmente paghi Niente Vabbè Ok Prendiamo Spoon Bender Con la siringa I span Nella situazione in cui siamo ora Preferisco homing shot Ma vaffanculo Sti cessi No ragazzi No a posto Andata Persa un'altra volta qua Come lo stronzo che sono Ok Meno male Vai Tutti oggetti mid In realtà Cosa prendiamo Potrei giocarmi un reroll Potrei giocarmi un reroll Anche con la chiave Facciamolo Abbiamo secret orb Ci esce roba Vai Ok Buonissimo Ci prendiamo Cosa ci prendiamo E Eucarist Non sarebbe male Però Il crown of light E crown of light E no Prendo il danno ragazzi Questo possiamo rerollarlo però Niente di che La spada non la voglio Con Isaac Con The Lost Vediamo se magari Vabbè Prendiamoci Elo Dai Va benissimo Elo Dai Almeno facevo danno adesso Tanto danno Siamo comunque debolucci ancora È però Un po' di meno Va bene Andiamocene Ok Dovamo solo arrivare nella chest Raga Una volta che arriviamo nella chest Con tutti quei reroll È fatta Oh Subito Subito Eutanesia Oppure Oppure la magic skin Perché la magic skin Ci può dare un oggetto Eh però in realtà Che oggetti Ci possono capitare ancora Nella Nella secret room Beh ci potrebbe capitare Rock bottom Per esempio No dai Eutanesia Abbiamo tanta luck E anche spam tra l'altro Eh no no ragazzi Col cazzo Andava per Eutanesia Decisamente Se ci capita adesso La course of the blind All'ultimo piano Mi metto a piangere Questo succede Siamo entrati là? Sì siamo entrati Oh grazie mille per il range up Dammi un item Stronzo bastardo Dammi un item Ti ho detto dammi un item Non era una richiesta Era un ordine Ok Oh quad shot Quad shot Lo potremmo prendere Oppure possiamo rirullare Per Oh Cazzo Oh che brutta scelta questa 2020 O il D6 Eh ma 2020 Forse è meglio Sapete Vai 2020 Full offensivo Non mi interessa Non mi interessa Voglio voglio fare danno Andiamo A cazzo duro Durissimo proprio Di marmo Devo spaccare le pietre Questa sì che è una stanza brutta Macmillen Per esempio Dai dammi un altro beggar Bravo Dammi un altro Niente beggar Non fa niente Non fa niente Isaac Che brutta stanza questa Vai amori figlio della merda Perfetto Andata Chest Ti prego l'oncurso of the blind Meno male Raga Adesso Ora valo a spacca Yes Yes Godo tantissimo Vai Andiamo Andiamo E due Madonna Madonna Ragazzi Tutto nell'ultima stanza Si è risolto Perfetto A posto Non mi serve nient'altro Finalmente Mamma mia Il lag Subito Subito Laghiamo Subito Che ci vuole Dammi una cesta Però Isaac Dai Fammi ritornare qualcosina No Attenzione Oh Oh Dai Dai Allora Prendiamo Parassitoid Ok E Reroll Niente di che No Ok Sechiamoci anche la secret room Sapete cosa ci vorrebbe ora soltanto ragazzi Soy milk O almond milk Buono Buono Prendiamoci backstabber Perfetto Ok Burzai No Via Dai Allora Allora Lo faccio Minchia se l'ho chiamato Comunque Soy milk si prende sempre Ok Prendiamo anche ghost pepper E che ci vuole Giochiamoci in altro roll Prendiamoci 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 Direi tech 5 Val Ciao bro Guarda Non mi far parlare Che abbiamo sofferto Fino ad ora Ma adesso La run È cambiata Sì Sì Ragazzi Sì Finalmente Finalmente Oh Avviso epilessia Subito Spindown dice Cosa Prendiamolo subito Vai Reroll Niente di che Andiamo avanti Altra chest Cosa mi dai No Non posso Non voglio prenderlo questo Perché non ha l'immunità alle esplosioni Scomparso Non fa niente Via Diamo un'altra chest Apriamola Cosa c'è? Perché? Prendiamoci nine lives Nel dubbio Meglio E prendiamoci anche Psyfly Oppure Facciamo una cosa Potrà sembrarvi una cazzata Questa ma lo voglio fare Andiamo X-ray vision Ottimo Sono pronto Esploso Perfetto E' modo Cattè Ho preso L'X-ray vision Perché potrebbe Capitarci qualche altro oggetto Nella secret room E trovare la secret room Nel piano di Delirium E' impossibile Vai Ok Aspetta Cosa prendiamo qui Prendiamo Prendiamo Holy shot Perfetto Siamo serafino Certo No no Holy shot Meglio Non li salutiamo? Ragazzi Allora Siccome la monterò questa Spam di caciocavalli In chat Vai Non deludetemi A posto Ragazzi Vi metto tutti quanti Nel video Promesso Mamma che fatica Stiamo facendo però Io crasherò Lo so Che crasherò Isaac ma diventa Un fotolibro Ogni volta che sparo Come dicono i giovani Let's go ski Così Giusto O è cringe se lo dico io Mori all'istante Che item mi dai? Pian 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 Ok Mega Magmash Ragazzi E' una cosa che non faccio mai Facciamo delirium con Megamash Ok dopo il camo Andis Me ne frega un cazzo Devo spaccarlo in due Sto coglione Isaac figlio di puttana Stasera mi hai sfidato E io ti ho distrutto Eccolo qui Pezzo di merda Muori Muori E lo abbiamo sciolto E' finita Record Non credo Non credo Però va bene Adesso mi sa che c'è il bug No non c'è il bug Che sofferenza stasera Easy Più o meno Che fatica Allora Mi sa che possiamo staccare Per questo Anche perché è tardissimo Ragazzi Vi ricordo che In descrizione trovate Tutti quanti i link che servono Discord e Twitch E noi ci vediamo Alla prossima run Ciao belli Dove Grazie per la visione!